rieccoci con un altro video di liquidi sempre della linea Summer Ice Cream della Dreamutz andiamo a provarne un altro e questo qua è caffè e liquirizia vediamo proviamo sempre 50 ml a cui aggiungerci 10 ml di booster con o senza nicotina quindi adesso lo prepariamo come sempre e poi lo sbappiamo insieme e vediamo com'è a dopo eccoci tornati ci siamo oggi lo proviamo sulla tag live con sopra l'apocalypse e assaggiamo questo caffè liquirizia ice cream si sente tanto il caffè il gusto di gelato al caffè si sente tanto e non è male è buono è buono la liquirizia non la sente tantissimo per cui non dà neanche tanto fastidio discreto come liquido è molto discreto non è male si è una liquirizia proprio quella di ricorda cosa del gelato ma non è fortissima ma per niente ragazzi è delicata delicatissima si sente tanto il caffè questo si vabbè però da una parte o dall'altra deve sentirsi per forza l'aroma qualcosa quindi buono buon liquido andate a provarlo in negozio mi raccomando e se volete acquistarlo acquistatelo perché secondo me alla sera questo qua d'estate ragazzi dopo una buona cena ne vale veramente la pena ci vediamo al prossimo liquido e state sentenizzati ciao